Grazie Presidente, sarò rapidissimo, con questa mozione, proprio ieri si è ricorso il 39esimo anniversario della morte del piccolo Alfredino Rampi e in vista della celebrazione del quarantennale della nascita del centro Alfredo Rampi si sono in corso i preparativi per organizzare delle iniziative nei giorni 4, 11 e 12 giugno del 2021 volti a ricordare il tragico evento che sostanzialmente ha dato vita alla legge per la protezione civile e tutte le iniziative del centro volte sostanzialmente all'operare su temi della sicurezza, della protezione civile e la sensibilizzazione dei cittadini per la prevenzione dei rischi e il soccorso in caso di emergenza. Ringrazio quindi tutti i capigruppo e i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione e esprimo ovviamente il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie